il cimato si mette subito in una buona posizione la squadra del gruppo dei più forti facile, facile controlla la situazione, il primo centro e si assesta mi sembra una gara controllata conosce delle sue scarse possibilità eh si già si legge l'invidia nei suoi occhi per il gruppetto di testa però sta ancora leggendo è che ce la puoi fare, non sono lontani vai Massimo che brutta tecnica di corsa che è è un po' bruttina brutto ma efficace efficace per quello che può fare per il modo di dire per lui considerata la scarsità dei sui mezzi sta tenendo dietro al gruppo prova anche a superare matto veramente e ha capito che la gara tattica non fa per lui no no va in testa va in testa in testa è una parolona adesso in testa al gruppo dei seguitori insomma dai ha già perso un'altra posizione è così c'è caldo non i capelli la testa si riscalda prima ha un vantaggio quando devi ragionare perché il cervello Laura Poli che è un'altra posizione di Vita Poli che si può hai Massimo lo staccarti siiii passaggio diamo un po' di ritmo ti ragazzi hanno ritrovato il capitale ho detenuto l'azione del ristorante però quelli scarsi li ha tutti dietro eh si è il più scarso dei primi quindi è il più scarso è il più primo degli scarsi è il primo degli scarsi no non mi staccare così no no dai che stanno andando le Massimo reagisci vedi che mettiamo su YouTube video eh con sonoro con sonoro chiaro e poi rimanere da soli dai che sono lì stare in tribuna sono sempre lì vediamo un po' la tecnica come è non mi spinge non mi spinge si sta preparando per il giro finale secondo me può essere mi lascia sfogare vai Massimo vai Massimo vai Massimo dai dai come solito alla campana l'ultimo giro vai Max vai Massimo passaggio il 3.31 che faccio sono in 50 no 45 dove l'ho perso adesso è fermato maledetto è stato ancora lucido da capire che Gazzetta era vicino che ha trovato una buona ombra ecco dove doveva essere lui maledetto è stato un po' di tempo in posto per vincere un 425 e 40 è riportatore della dame caratterizzanza gran filiale di tempo che cambia la posizione nel 2005 grazie a tutti grazie a tutti